Musica Immacolata De Vivo, genetista di fama mondiale presso l'Harvard Medical School di Boston, originaria di Sarno, torna nella sua città ad accoglierla l'amministrazione comunale ma anche tanti giovani. Tutto è possibile, loro sono il futuro, loro possono fare tutti. Adesso uno può fare tutti, anche quando io ero ragazzina, non lo so perché non mi venne a mento, ci stavano le possibilità, perché mia mamma e papà mi hanno mannato all'asile, nono che stavano sotto qualcosa, ma adesso come il mondo è aperto, tutto è possibile. Oggi è più facile, le dice, con le frontiere aperte, studiare anche all'estero, lavorare all'estero. Esatto, esatto, infatti io sto facendo questo intrascambiamento con l'Università di Salerno per dare queste opportunità a tutti quelli studenti di medicina o Salerno Università. Ma lei come ci è arrivata oltre oceano? Con lavoro, è sacrificio, troppo, tante lavori, però io ho la passione. Ha studiato qui in Italia, ha studiato? No, io ho lasciato a sei anni e ho studiato in America, però la lingua è romana, a meno perché ho detto mamma, e poi quando io sono stata a Columbia University ho preso certi corsi per leggere, per scrivere, perché a me sono sempre sarnese. Una cosa, lei è una genetista e ha dedicato molti studi anche alla dieta mediterranea, giusto? Allora fa bene questa nostra dieta, la nostra salute? Sì, ma sì, fa bene, ma io studio il cancro, però i telomeri fanno parte con il cancro e fanno anche parte con alimenti, con cose di... Cosa dobbiamo mangiare per stare meglio in salute? Mangia il nostro, mangia il paesano, quello è meglio, però poco, eh? Quella è la differenza. Esagerare. Troppo esagerare. Poi esageriamo un po', giusto? E non mangiare la spazzatura, junk food, hai capito? Sì. Hamborga, tutta quella... Facciamo un saluto ai sarnesi che non sono qui stamattina, ma che sanno del suo arrivo e insomma l'aula non poteva racchiudere tutta la città, ma sappiamo che lei è un po' il banto e l'orgoglio oggi qui a Sarno. Sì, allora saluto a tutti quelli di Sarno, tutti... Beh, come voglio dire, sono emozionata. Longa vita a tutti. Longa vita a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.